e benvenuti in questo nuovo video in questo quinto episodio di scorrino come avrete già letto dal titolo si è persa la registrazione di 6 livelli i livelli 33 34 35 36 37 38 non le andrò a rigiocare perché comunque sono tanti livelli e poi non mi va di sprecare tutte le vide per i livelli che ho già fatto diciamo e ciò comporterebbe andare avanti in questo episodio ora vi spiego come si è cancellata praticamente avevo chiuso la registrazione e c'era ancora il mob in senno costritto 0000 quindi pensavo me me l'avesse salvata ho preso e ho levato mob in se mettendo sulla x quando chiude registrazione dopo mob in se nello sposti in basso e c'è la hits che te lo leva poi sono andato sulla galleria e mi sono accorto che non c'era più la registrazione cioè non me l'aveva salvata comunque adesso direi di no di rigiocare di andare avanti con il livello 39 ragazzi comunque devo dirvi un'altra cosa ovvero che quando si blocca mob in zain praticamente attenzione quando sono sbagliato al palo devo segnare se non ricordo male ok niente comunque tiro da che testa perfetto e gol segna 2 gol segna 2 con il tuo portiere ed alto con il tuo portiere ragazzi stavo dicendo di mob in zain che quando metto pausa la registrazione e poi riprendo diciamo che c'è un lag c'è quindi sto cercando un'altra applicazione per evitare tutti questi problemi che mi sta dando mob in zain in questo momento e già ve ne avevo parlato ok niente dove porterà il portiere quello la giallo ok e fatto segna 2 gol segna il tuo portiere no ma dal palo no scusa segna il tuo portiere si e dal palo no scusate mi ero confuso ok perfetto se cross forse qua era assiste con il tuo eroe penso va bene andrà rifatto stiamo qua 0 a 0 chiamiamo lui e la diamo un po' a raso terra l'ha presa l'altro troppo forte ok sono riuscito e gol segna con un gol in angolo alto niente e tira il volo nemmeno comunque le selle ce le abbiamo quindi stagione 3 dove andiamo al torino o al sassuolo direi di andare al torino oppure al sassuolo non so ragazzi proviamo ad andare al sassuolo perché no ci possiamo anche provare iniziamo con una squadra un po' così cioè siamo partiti con il cagliari poi invece di passare subito al torino che comunque è una squadra un po' più forte del sassuolo ok vabbè su questo gioco in realtà non mi ricordo che penso che le partite siano sempre le stesse a qualsiasi squadra vada sto dicendo a qualsiasi squadra vada e le partite secondo me sono sempre le stesse quindi non cambia niente dove sono andato tra al sassuolo e al torino comunque spero che anche voi vada bene questa mia scelta di andare al torino e al sassuolo e non al torino di essere andato ok e gol segna un gol effetto un'assuolo niente e con un colpo dello scorpione non ci sono riuscito questo qua direi di riprovare a farlo vediamo un po' ok la devo mettere un po' alta su lui sicuramente vediamo oh si incredibile ci sono riuscito pensavo andassi di testa invece no perfetto 3 stelle livello 42 iniziamo 1 a 0 per loro ok forse avrei dovuto fare l'assist con l'eroe comunque l'ha parata allora chiamiamo l'eroe diamogliela piano cross questo terra però dove va ok niente assist con l'eroe speriamo di segnare almeno e gol segna un gol è più di 10 yard e angolo alto quindi l'assist con il tuo eroe nemmeno c'era partita contro il livorno e 1 a 0 per loro 1 a 1 ok il 59esimo entriamo noi perfetto vai passiamola a lui speriamo ce la ripassi niente forse non è un fuorigioco però è l'unico passaggio quindi ci ho provato ci sono riuscito vai no magari passiamola controllo tira al volo più o meno e gol segna con un gol segna un gol e non meno di tre tiri più di 25 yard e niente ragazzi ancora in panchina siamo e infatti adesso siamo entrati 2 a 0 stiamo stiamo vincendo all'ottantatresimo quindi vabbè penso che dobbiamo segnare noi sicuramente ok parti ho dato un po male speriamo non esca ok forse ha assist perché il gol da qua non si può fare forse un altro scorpione chi lo sa no niente controllo tiro prende il difensore infatti ragazzi una grandissima occasione ho creato però l'assist con il tuo eroe niente ah ok infatti era quella la missione me lo sentivo al settantasettesimo stavolta entriamo ma abbiamo un'occasione all'ottantacinquesimo dai prendila perfetto tiriamo così d'esterno un po strano l'angolazione ho provato ma niente dove sta il nostro eroe non lo so comunque stavolta proviamo a lanciare lui forse troppo forte no la prende la prende me lo sentivo che l'avrebbe presa ok l'eroe va il sinistro a giro preso il difensore riprovo sempre così dopo una vita guardate quanti cori cori sprecati sono riuscito ad arrivare qua in questa occasione dai ultimo cuore gol acqua era un assist con il mio eroe dal legno allora ci riprovo ma so come riprovarci so come fare perché non la sono studiata prima quel passaggio ha fatto a lui dietro poi l'eroe un po più dietro così lui poi lancia lui ok se la prende magari pro lì da qua in turia dovrebbe tirare però dove è andato non si sa ragazzi un giorno io dissi che non avrei mai provato a fare i livelli diciamo già fatti pure con una stella però se non sbaglio tipo un episodio dopo se non sbaglio nel secondo episodio ho detto che una volta avrei anche potuto riprovare a farlo comunque non fa niente da riproviamoci ok qua è in turia dovrei segnare dal palo vediamo e ci sono riuscito no dal legno ancora questo vuol dire che ogni tanto posso riprovare a fare anche i livelli più di una volta magari tre volte così ma in questo questo qua l'ho riprovato a fare tre volte in turia o due volte no tre volte questo prima di questo ok no proviamo a lanciare l'eroe così speriamo la prenda bravissimo ok passaggio facile qui parti ma che l'ha presa l'ho presa dove sta l'eroe tutta dall'altra parte ok perfetto tiro e parata incredibile un'altra occasione proviamo sul primo palo stavolta gol non so forse questa qua pure segna una tripletta e non lo so provo così no ha presa lui cavolo ragazzi in qualche modo l'ho fatta arrivare a parlare all'eroe ok fatto si è sicuramente segna una tripletta e ma qua come faccio a segnare no è impossibile proviamo a ripassarla non è che me la fai appoggiare ho lì a benji tiro doppio combinato e niente e qua direi di riprovarci perché è incredibile ciò che è successo qua non posso passarla dietro né da nessuna parte nemmeno se chiamassi lui sarebbe possibile qualcosa niente ragazzi ci provo l'ultima volta e poi finiamo la registrazione concludiamo il video comunque ok parti dai se non sbaglio la stessa azione di prima si la me la faceva tra faceva attraversare tutta l'aria ok stavolta diverso comunque sempre gol suo perfetto ok eroe no l'avevo passata a lui che poi di testa aveva messo all'eroe poi la mette in un modo un po' diverso ma il gol è sempre lo stesso ok dai ce la posso fare questo sta per terra quindi un po più facile gol segna tre gol segna tre gol con il tuo eroe e segna con la roccia da volante fatti tutti e tre allora spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato lasciate un mi piace io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo in un prossimo video bella